E allora ben giorno, ben giorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete iscritti che seguiamo ovviamente la Fiorentina ma la vita di tutta la Serie A, devastate di like, ne esigo mille e condividete il video con tutti i tifosi che conoscete, oltre a guardare i video fatti che abbiamo parlato di accoppiate europee, sorteggi e via discorrendo. Allora, Fiorentina-Lazio, vittoria vitale, vittoria vitali, vittoria ferale, con diverse cose da dire ma anche diverse indicazioni. Allora parto dicendo che ci ritrovavamo qui nelle ultime partite, nelle ultime settimane e ogni partita, eccettuata quella contro il Frosinone, eravamo a dire è stato il peggior primo tempo della Fiorentina vista questa stagione o addirittura è stata la peggior partita della Fiorentina vista questa stagione, addirittura in tutto il ciclo di italiano. Ecco, possiamo dire stasera invece che è tutto il contrario perché poi se sbaglio, se sbaglio mi scorreggerete ma io quest'oggi ho visto forse la miglior Fiorentina dopo Napoli. La miglior Fiorentina dopo Napoli ed è una partita poi faremo anche i voti, daremo i voti ma stasera non vorrò dare l'insufficienza a nessuno perché tutti i ragazzi per applicazione, per impegno, per la volontà con la quale sono stati aggrappati a sta partita, alla loro stessa prestazione, al carattere che hanno mostrato nei momenti difficili. Per me hanno veramente fatto una serata nella quale tutti meritano, tutti meritano un applauso e un abbraccio. Quindi stasera per me è una vittoria meritata, una vittoria che poteva essere anche più rotonda. Il primo tempo se finiva 3-0 non c'era niente da dire, siamo andati addirittura in svantaggio, siamo stati bravi a non perderci, a replicare, anzi addirittura a migliorare la prestazione nel secondo tempo. Quindi stasera un grande applauso, è stata anche una gara di reazione. Per certi versi ci confidavo perché avevamo avuto una settimana per magari lavorarci anche dal punto di vista fisico, eliminare qualche scoria, concentrarci sulla partita. Di contro va detto c'era una Lazio che aveva giocato in settimana contro il Torino. Per me ha cercato di ripetere anche la gara che aveva fatto contro il Torino, spingendo ancora di più su una gara di cortomuso, difendendo e ripartendo, cercando, no, consci delle nostre caratteristiche. Ho visto una Lazio che è venuta qua a dire ci difendiamo e quando riusciamo ripartiamo e facciamo male. Cosa che gli era anche riuscita il primo tempo in modo beffardo perché, ripeto, un primo tempo che doveva essere 3-0 per noi. Andiamo a riposo sotto di 1-0. Però poi ho visto una Lazio che si è fermata molto lì, c'è un'applicazione della gara forse complice anche la stanchezza, probabilmente proprio l'interpretazione della partita un po' a risparmio. Ho visto una Lazio un po' a risparmio che ha impostato la gara così e nel momento in cui hai subito il pari e dovevi magari avere una reazione, mi sembra che la Lazio sia rimasta ferma lì con l'interpretazione della partita. Cioè che non sia più riuscita ad uscire da quel guscio di gara di difesa e contropiede che aveva impostato. Quindi anche da questo punto di vista qua secondo me siamo stati agevolati dall'avversario, ma ci sono stati anche i nostri meriti, soprattutto caratteriali stasera. Venendo ai discorsi tattici, io mi faccio una domanda, cioè perché Duncan questa sera... Cioè che cosa è successo con il discorso Duncan? Perché non ha giocato, vedendo Bonaventura, Mediano addirittura, o comunque centrocampista, mettiamola così, una sorta di 4-3-3 molto offensivo, 4-2-3-1 con un doppio regista, barra mezzala, ma la cosa singolare è che Duncan non solo non ha giocato, ma non è entrato neanche a gara in corso, pur essendo in panchina, se non ricordo male era in panchina, quindi da questo punto di vista qua sarà interessante. Se nel dopo partita ci sono informazioni da questo punto di vista qua, scrivetemelo nei commenti perché sono curioso anch'io, o leggeremo insieme. Detto questo, la formazione che è scesa in campo è stata anche un po' un azzardo, è stata una formazione molto offensiva, io il primo tempo quando siamo andati sotto 1-0 ho detto è una squadra, la Fiorentina, che sta facendo un ottimo calcio, però rischio, diciamo, è quello che poi giocando così con degli interpreti che magari non sono al livello di questo calcio che tu vedi, rischi di pagarla, rischi di subire la classica infilata in contropiede, la classica ripartenza e ti puniscono. Oggi sei stato bravo a starci dietro, a metterci benzina, a metterci il carico, a rincorrere la partita, a rimanerci attaccato, però la domanda che io un po' mi faccio è, questo tipo di schieramento che abbiamo visto oggi è replicabile? Cioè si può giocare anche in futuro e le prossime partite, per esempio con un buonaventura in mediana accanto ad Arthur? Ti verrà fuori la stessa partita che hai visto oggi, complice anche l'avversario, quando giocherai ogni tre giorni, quindi questa partita qui che cosa significa? È stato un episodio, hai giocato così oggi perché hai voluto estrarre il coniglio dal cilindro, perché era una gara catartica, ferale, anche vedendo le caratteristiche dell'avversario, oppure è un qualcosa che vedremo anche in futuro, questo tipo di centrocampo, questo tipo di Fiorentina iperoffensiva? È una bella domanda ed è quello che un po' ti resta stasera al di là della vittoria, perché è vero che la vittoria ti dà dei buoni fluidi, ti dà delle buone energie, ti dà anche delle buone indicazioni su alcuni singoli che poi andremo a vedere nelle pagelle, però se poi vedi a livello tattico ti resta un po' la domanda se quello che abbiamo visto stasera sia proseguibile, quando anche magari rientrerà Martínez Quarta che è un giocatore che ti dà sotto l'ala offensiva, sotto il fatto di salire verso il centrocampo, però difensivamente magari rispetto a Ranieri Milenkovic concede qualcosina di più. Quindi dal punto di vista tattico bisogna capire perché Duncan è stato fuori, che cosa ha scaturito la formazione di stasera e se è qualcosa di proseguibile. Poi dal punto di vista dei singoli e vengo alle pagelle, partiamo da Terracciano, allora io gli voglio dare 6 meno perché non voglio dare meno, però non è stato mai impegnato durante la partita perché la Lazio ha fatto un tiro in porta, se non ricordo male, ed è stato quello del gol. Sul gol subito non mi è piaciuto molto Terracciano, secondo me qualcosina in più lo poteva fare, però diamoci 6 meno perché, ripeto, non voglio scendere sotto la sufficienza con nessuno. Poi Caio De, a parte il gol, mi è piaciuta molto, una delle sue migliori partite, secondo me errori non ne ho visti, sono qualche sbavatura, però anche il primo tempo, sempre diligente, presente, bel gol, bel taglio dentro l'area, quindi dal 6 al 7 a Caio De. La coppia difensiva, bene nel secondo tempo, salita di tono, più concentrata, caratteriale, sul gol anche loro non mi sono molto piaciuti, Milenkovic abbastanza lento, sempre un po' compassato, Ranieri era molto alto, e anche quella è una cosa che poi paga tutta la linea perché a difender così alto poi è difficile starci dietro, però fa parte anche del nostro gioco a pro e contro, quindi io darei 6 meno a Milenkovic e 6 a Ranieri, o 6 meno ad entrambi, o 6 ad entrambi, siamo comunque in quel range lì, insomma. Venendo a Biraghi, a me è piaciuto, vi devo dire la verità, ha messo dentro cross da angolo che potevano veramente fare male, sul gol anche lui poteva essere un po' più rapido, un po' più svelto, però a me Biraghi stasera è piaciuto, anche nel secondo tempo difensivamente è cresciuto, ha fatto una partita per me vera, solida, da capitano, con tanti palloni messi dentro, gli do 6 e mezzo. Venendo al centrocampo, Buonaventura lo si è rivisto a degli standard importanti, quelli di inizio campionato, speriamo che questo sia una scintilla, quantomeno da qui a fine campionato, per rimetterlo in sesto, per rimetterlo in gioco, anche perché in quel ruolo lì, vengo prima a Beltran che ad Arthur, perché Beltran, come trequartista, abbiamo trovato il pane quotidiano di questo giocatore, secondo me, perché da punta, diciamo, ce lo era abbastanza impalpabile, era sempre fuori ruolo, sembrava un po' un cane in chiesa, per usare un paragone che si usa qua da me, mentre trequartista gioca tra le linee. Ecco, questa, a proposito di futuro, è anche un'altra domanda che io vi faccio, e mentre sul fatto di dire possiamo giocare ancora così, tendo al no, su questa che vi farò adesso invece tendo più al sì. Cioè, abbiamo trovato un post Buonaventura avendolo in casa? Cioè, possiamo l'anno prossimo magari, o confermando Arthur, o con un altro regista, e a fianco finalmente un bel mediano pesante, per metterci un bel tran come trequartista titolare e post Buonaventura ad avere in casa? Sarebbe molto intrigante, certo è che dovrebbe magari un po' lavorare lui su quello che è richiesto nel ruolo suo di trequartista moderno in Serie A, inspessirsi un po' fisicamente e mettergli dietro magari un centrocampo un po' più stazzato. Però a me Beltran trequartista piace molto, e gli do dal 6 al 7 oggi, perché è stato veramente un bel folletto. Poi venendo ad Arthur, anche lui ha fatto una buonissima partita, 6 e mezzo, dal 6 al 7, anche questa è un'ottima cosa, ritrovare Arthur, perché da lui girano le trame del nostro centrocampo. Nico Gonzales, se io gli do 6, anche 6 più gli si può dare, conta il rigore sbagliato, secondo di fila. A volte mi è sembrato più agire di garra e di intensità che con la testa, diciamo, però comunque anche lui ha la biraghi, cioè una presenza carismatica, utile, volenterosa, quindi comunque anche lui gara positiva. Belotti, eravamo abituati, ripeto, Anzolà o Beltran prima punta, che non era cosa, basta un Beltran che non segna, ma che si fa trovare con i movimenti, che fa le spizzate, che funge da riferimento, ti sembra di avere davanti Benzema, ti sembra di avere avanti Benzema, oggi ha giocato molto bene Belotti, secondo me 6 e mezzo, dal 6 al 7. Anche quelli che sono entrati, Barak è entrato molto bene, chiudo con Sottil, Sottil mi è piaciuto molto, Sottil oggi ha sbagliato, diciamo, un tiro all'inizio, però la sua è stata una partita increscendo, il secondo gol parte anche da una sua azione, buon impegno, buoni scatti, testa, un ottimo secondo tempo, secondo me Sottil, che gli fa avere 6 e mezzo. Ditemi la vostra, un caro saluto, ciao!